Signore e signori, questo è il rumore che sentirete se una ragazza con una fila di legno ve l'ha dato la prima volta. È un rumore un po' sordo, potrebbe essere doloroso per il proprio apparato riproduttore, ma fidatevi, quando il buco è ancora stretto è una cosa bellissima, ricordatevelo. Basta, è finita la lezione! Grazie!